ma il tuo gatto o il tuo gattino? di fortine ah io pensavo...della vita reale il mio gatto davvero? allora, cioè allora, due di belli e sblocco nitroglicerina nitroglicerina e lo dico così vabbè ma non siamo qui per parlare di... cacchetto ammuffito il tuo gatto facciamo... tipo... questo, quest'altro e questo vai in chat partita e io rimango in chat gruppo e facciamo uno contro uno come se fosse... una battaglia reale burgo? burgo? eh? ma è già partita la live? ma no, aspetta il video scusami è quello è già partita? mamma mia sai che forse faccio anche io i video su youtube? cioè su... 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 come si chiama? su fornite, ecco accidenti allora... su... su youtube su youtube su youtube su youtube dico 2010 uè eh ahhhh niente volevo solo se dicevi... ma nico... ma... sono già andato no e dici e basta io gli ho detto ah ok quindi battene battene dal mio gruppo cos'è? ok se ne andà mi sa l'altro stuputo bampa buon'altro bampa andiamo io ho 999 però se vedete che non c'è che banchot il banchot io vado qua oh mio dio che schifo di loot no non è vado qua dentro ok 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 oh no ok ma oh mamma c'è il suo lanciarato cosa? sì, non cazzo, l'hai trovata le scatole no, non le ho trovato vado o l'hanno levata dal gioco? non le hanno levata no, perché se le trovi vieni qui all'agenzia e vieni magari in certa partita perché mi servirebbero fare cosa? un glitch? ah no non è vero perché? che glitch si può fare? ma anche non so magari su youtube c'è un glitch no, no non credo che mi servano per ora tanto io io c'ho tutto fra ecco appena sto dicendo tutto fra le pompa troppo si pompa ok forse mi aspetta aspetta infatti ho detto perla magari ah li fatevi sentire l'indone a tutti oh finalmente ops e ora? cosa? sto facendo una cosa ma che ne frega a te che ne frega? vedete i militari però fa bene vabbè Mattia sai il glitch quello di cosa? della barca no vabbè ce sa cosa c'è? cosa c'è? che c'è? già ne chiamata non so se te nemmi da un giro di mano sennò magari ma tu dove sei io ho detto dove sono io sono a fattoria ok ciao ciao e non venire trovo oh mio dio 1 2 3 3 facciamo triple lanciarazzi oh mio dio tipo un'elettorina che voglio di farlo guardala faccio acciuzzi oh un lama non l'avevo messo basso in attorno ha preso il posto a un livello il livello è l'ultimo il posto ecco quel maledetto lì che lo dico viene immediatamente allora non lo voglio di capito che il nico lo vedrà non lo posso dire non lo so allora ciao 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 Sì 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 Grazie a tutti. 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 Come? Grazie a tutti. 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 Magari se... si uscisse... No, non è... non lo voglio sapere... No, non è... No, non è... attenzione... faccio io... non è...